E' un paese ricco di archeologia, piramidi, faraoni, ma anche di uomini, è bravo! E' un paese ricco di archeologia, piramidi, faraoni, ma anche di uomini, è bravo! Sapete cosa facevano le donne quando muovono i mariti, toccatevi? Lui li punificavano perché volevano che l'hanno usato, ma rimanessi eterno. Allora, noi cosa faremo? E' uneremo quello che è l'amplificazione. Bene, bene, bene. Allora, quando lo dico io, attenzione, avete un minuto e mezzo di tempo per la donna deve circondare il proprio uomo, fanno quanto meno per assomigliare a una mummia. La donna che appongerà il proprio uomo e il serato più a fondo vince un viaggio per loro e sono. E ci vedete? 3, 2, 1, via! Cambiate che l'uomo gira, 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 gira! provo a fare l'eroggio oggi dai 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 allora l'uomo per aiutare la donna può anche rotolare su se stesso può girare su se stesso bravo 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 l'uomo che gira su se stesso bravo bravo modulo 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 grazie a tutti